Nel Casertano ora, dove c'è stato un confronto tra giovani e istituzioni sul tema della legalità. Nello di Costanzo. È stata una giornata intensa per gli studenti delle scuole superiori della Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni. Una giornata dove i giovani hanno discusso di legalità con i rappresentanti delle istituzioni presenti sul territorio casertano. Un confronto dinamico e costruttivo sul vivere comune e sul rispetto delle regole. Una vera e propria lezione di educazione civica è inserita nei percorsi di legalità iniziati al Villaggio nel 2015. La Fondazione da sempre su questi temi è presente. Il nostro percorso sarà sempre improntato alla legalità e alla conoscenza delle regole. Capire quelle che sono le esigenze dei ragazzi, quali sono le loro aspettative e soprattutto dare loro dei modelli positivi. Spiegare come funziona lo Stato, quali sono le regole dello Stato, l'importanza di rispondere alle regole e farlo in tutti i contesti della vita. Quanto sono importanti queste giornate dedicate alla legalità? Sono importantissime per non sbagliare. Sono importanti per farci crescere. Che cos'è la legalità? Rispettare le leggi e le regole. Prefetto, questo è un territorio difficile. Ma nel contempo ha anche gli anticorpi e le potenzialità per poter rifiutare certe forme criminali. Questo rifiuto passa proprio dalla cultura, dalla conoscenza che la scuola deve offrire ai ragazzi.